E' l'ennesimo inganno. Dopo anni di fango nel passato, di bugie, di promesse in questi due anni e mezzo, arriva una rete che, uno, è già scaduta. Tant'è vero che tutti gli atti di programmazione sono fermi al 31 dicembre del 2018 e questa rete è datata 2019-2021. Già scaduta appunto. Due, non intercetta quello che sono le risorse nuove che il PNRR, i fondi europei metteranno a disposizione della sanità. In Abruzzo, nel mese di settembre, si tratterà di comporre un programma che metta in campo dai 250 ai 500 posti letto per gli ospedali di comunità e non c'è traccia né di queste strutture né delle risorse che dovranno essere investite. Tre, è un programma che non avviene a valle del piano sanitario e quindi non contiene le risorse da investire, il piano della mobilità, ormai è schizzata un saldo di meno 90 milioni per le migliaia di abruzzesi che debbono fuggire fuori regione per trovare assistenza, che non trova le risorse tecnologiche, finanziarie e umane per far fronte a quanto promesso dentro questa rete, cioè non è collegato a un piano sanitario. Da ultimo, la latitanza di questo governo regionale ha bloccato ogni investimento. Dall'Aquila Avezzano, da Avezzano a Sulmona, a Teramo, a Penne, a Lanciano e a Basto sono fermi oltre 500 milioni di euro già disponibili perché non si è approvato in due anni e mezzo nulla. Su queste critiche muoveremo le nostre proposte, però non c'è che dire, è l'ultimo, davvero in ordine di tempo, inganno agli abruzzesi.